Ciao, sono proprio nel centro per fare, per la mia collezione, la capa di collezione. Ma ho scoperto che il mio cuocino tagliato è troppo piccolo. Quindi ho bisogno di aprire un progetto. Ho bisogno di fare, per il mio cuocino tagliato più grande, la scuola. E lo faccio con questo pezzo di stile, che è una scuola, ma è in 42 cromoli 4. È buono perché posso amalgamare questo. E è anche usato per fare axi. Andiamo a la latina per fare queste componenti. Ora non è troppo buono. Non voglio perdere qui tutto il giorno. Non voglio perdere qui tutto il giorno, non voglio perdere qui tutto. Non voglio perdere qui tutto il giorno, però non voglio perdere qui tutto il giorno. Siamo tornati a scuola di stings Ok, ho cambiato qui questo set up. è luce pot i spots 40 microns is the high spot let's put a little bit down stop like this almost perfect almost 10 micron i can say is perfect i don't know if you can see i can see beautiful stop to check here this diameter 30 this one is 37 let's remove two millimeter quite aggressive okay this one is the final pass we are at 3.4 okay i don't want to scratch the surface okay and this one should be our dimension here here we have to remove material because it's too much so 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 faccio un filo per un screw M8 e ora faccio il filo a 6.8 per la prima volta cercherò di usare questo, è da guide usiamo... questo è questo voglio fare un caso migliore per questo questo è per M8 come questo ok questo è qui ok tutto questo è fatto in una buona qualità anche qui l'email è fatto in Germania ora voglio fare un caso per questo questo è questo quindi mettiamo questo qui ok e e zero idea how perform zero here no I don't want to destroy it I don't want to damage this one you know because that's I bought this one for the drill press you know I will do in a traditional way all the time is like this on the lead okay yeah 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 ok now let's measure here this one roughly like this it's a 19 let's take the internal mic should be this one is from Rupak and this 19.08 19.08 and this one is 16 I have to go deep 16 I will give one millimeter just as a reference point you know no more no less here we have to remove material now let's go let's go and this one is from the first yeah he's gonna give it a little bit I have to work to find loose with the adder the adder to the adder and add the adder to the adder and add to the adder and adder and adder Grazie a tutti. 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 Nice. Perfetto. So. 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 Let's. Change this one. Put on the. On the milling machine. And come back to the original work. So. 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 And I can complete here the work. Because this one I have the more than enough space to make this dovetail. tail. I'm done with this project. If you enjoy it please put a like. If you want please subscribe. If you want please subscribe. See you the next one. Of course. Oh. This is the big one. So. the ande tali councilman it's done on the other side. Oh.